signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale continuiamo anche questa settimana a parlare di fazioni e oggi andiamo a vedere probabilmente uno dei punti più importanti che si merita un video a sé stante abbiamo detto che le fazioni servono al master per radunare i png in macro gruppi accomunati da un interesse comune questa però è la loro funzione meccanica quasi sicuramente le fazioni in qualche modo esistono anche come entità reali all'interno del mondo di gioco in cui si svolge l'avventura ovviamente anche all'interno della fiction le fazioni saranno composte da png che grosso modo condividono gli stessi ideali o interessi ma se a livello meccanico le azioni dei giocatori vanno influenzare il rapporto che la fazione ha con il party all'interno del gioco stesso i personaggi giocanti non avranno mai a che fare con la fazione nel suo insieme ma i singoli personaggi avranno a che fare con i singoli png che vanno poi a comporre quella fazione all'interno del mondo questa settimana andiamo a parlare proprio di questo cioè come i png e le fazioni si relazionano tra di loro e come andare a rappresentare nel mondo di gioco le fazioni tramite proprio i png che le compongono durante i loro viaggi e la loro esplorazione del mondo di gioco i personaggi giocanti prima o poi entreranno in contatto con le fazioni e i png che le compongono questo a seconda del tipo di campagna che state portando avanti potrebbe essere un evento preparato previsto già dal railroad della vostra quest o qualcosa che accade improvvisamente tanto per voi quanto per i vostri giocatori come abbiamo detto nel primo video della serie in realtà anche nel caso l'incontro sia improvviso questo non dovrebbe essere un problema per voi ovviamente se potete prevedere l'incontro tra png e fazioni avrete tempo per preparare specifici e png da presentare in quella specifica occasione se invece state conducendo un sandbox o se semplicemente il comportamento dei giocatori ha mandato la quest su un binario che non vi aspettavate dovrete improvvisare o meglio rifarvi a quegli archetipi di png di cui abbiamo parlato proprio nel primo episodio che saranno gli png tipici per quella fazione e che voi potrete interpretare senza bisogno di particolare preparazione quei png servono appunto per gestire questo tipo di situazioni e sì tutta questa premessa può sembrare ridondante ma ho voluto inserirla proprio perché non voglio dare l'impressione che tutto quello di cui parleremo in questo video in realtà faccia riferimento solo a cose che il master ha precedentemente accuratamente preparato se avete tempo di prepararla è meglio altrimenti dovrete semplicemente improvvisare dato che le fazioni servono appunto a questo abbiamo già discusso in passato su come creare png e quello rimane del tutto invariato i png all'interno delle fazioni avranno le caratteristiche come tutti gli altri png all'interno del mondo di gioco ma per loro dovrete anche pensare a quale sia la fazione e il suo funzionamento prima di inserirli nel mondo nel video sul creare un bestiario nel caso lo lascio qua in alto abbiamo parlato di come sia il comportamento che anche proprio la scelta dell'equipaggiamento e della meccanica che c'è dietro un personaggio quali siano le regole speciali abilità speciali classe livello di classe dipende dal regolamento che utilizzate comunque come l'immaginario che c'è dietro a quello specifico png all'interno del mondo di gioco debba andarsi a riflettere su come il png venga poi presentato all'interno della campagna lo stesso identico discorso vale per i png all'interno delle fazioni andando molto sul banale i png all'interno di una fazione che è un ordine di nobili cavalieri i png dell'ordine cavalleresco saranno armati ed equipaggiati come si confà a un nobile cavaliere qualsiasi cosa questo voglia dire all'interno della vostra ambientazione probabilmente avranno un'armatura una spada e quasi sicuramente un cavallo ovviamente questo non vuol dire che ogni singolo membro della fazione sia un clone di tutti gli altri ma quando cominciate a pensare ai png delle fazioni il primo a cui dovreste mettere le mani è proprio il membro più tipico e generico di quella fazione anche perché questo vi darà un'idea realistica di che cosa può o non può fare quel tipo di personaggio all'interno del vostro mondo di gioco e di conseguenza di cosa la fazione può ragionevolmente essere in grado di fare ma anche di che cosa potrebbe servirgli e quali siano le risorse di cui ha bisogno per portare avanti i suoi obiettivi difficilmente l'ordine cavalleresco avrà la sua sede in cima una montagna o nel centro di una fitta foresta perché sono due tipi di territorio in cui non è un vantaggio girare a cavallo quindi saprete già che questa fazione probabilmente avrà come sua sede centrale o sarà principalmente attiva in un posto dove è conveniente usare la cavalleria ma al dia di questo se ogni membro della fazione avrà un'armatura una spada un cavallo o almeno il membro tipico della fazione avrà un'armatura una spada un cavallo la fazione avrà bisogno di un modo per procurarsi armature spade e cavalli e non solo probabilmente avrà bisogno anche di persone che sono in grado di forgiare queste armi o comunque fare manutenzione a queste armi e di strutture atte a stallare i cavalli ospitare le armi e personale addetto alla manutenzione di queste strutture in base a tutte le necessità che abbiamo elencato potrete procedere una volta avete creato il vostro membro standard a creare tutti gli altri membri e cominciare a pensare a tutte le risorse di cui la fazione avrà bisogno per funzionare per l'ordine cavalleresco del nostro esempio avremo quindi come membro standard il cavaliere a cavallo con armatura e spada ma probabilmente avremo bisogno anche di qualche png che rappresenti il personale di servizio di quella fazione quindi magari avremo un fabbro che rappresenta tutti quei png che fanno manutenzione armi e armature e magari anche un generico operaio che rappresenta tutto quel personale che si occupa di installare i cavalli mantenere le stalle mantenere la loro fortezza per ognuno di questi tre tipi di membro standard della fazione dovete creare un profilo generico che dovrete sempre tenere sotto mano quando i personaggi dovranno avere a che fare per qualche motivo con un membro di quella fazione ovviamente cosa conterrà il profilo generico dipenderà dal regolamento che state utilizzando ma dovrebbero essere tutte quelle informazioni che vi serviranno per poter utilizzare immediatamente il personaggio nel caso ce ne sia bisogno durante lo svolgimento della quest questo però per quanto sia incredibilmente utile sia dal punto di vista meccanico per il master sia dal punto di vista della rappresentazione di quei png in maniera verosimile all'interno del mondo di gioco non va a risolvere di per sé il problema della presentazione voi potreste aver sviluppato un mondo di gioco incredibilmente complesso con un dettagliato sistema economico che giustifichi perfettamente all'interno della fiction di gioco come l'ordine cavalleresco si mantenga e quale siano le effettive disponibilità economiche di materiali che abbia ma come abbiamo già visto nel video sulla sindrome di tolkien che se non avete visto vi lascio qua in alto tutto questo se poi non viene in qualche modo inserito in una quest o comunque queste informazioni non vengono date ai giocatori rimane semplicemente un mero esercizio di war building che non ha alcuno scopo utile per la campagna che state portando avanti per questo alla fazione dovranno essere forniti anche dei png specifici che abbiano lo scopo di essere l'interfaccia che i giocatori avranno con quella specifica fazione e che siano in grado di fornire in maniera organica nel corso della quest tutte queste informazioni più tutte le altre informazioni che potrebbero essere utili ai giocatori per comprendere la natura di quella fazione questo tipo di png ha nomi diversi in base a quale sia la cultura locale del gruppo li ho sentiti chiamare png di elite a volte png con nome per differenziarli dalla massa di png che non sono identificati o che magari sono identificati con un numero che sono quei personaggi senza volto che i giocatori massacrano nel corso delle avventure a volte vengono semplicemente chiamati png importanti molto spesso quando si tratta di png che appartengono a fazioni avversarie sono chiamati mini boss per quanto riguarda noi li chiameremo i volti della fazione quando inserite un png che faccia da volto per una fazione dovete costruirlo facendo in modo che dia tutte le informazioni possibili sulla fazione a cui appartiene nella maniera più coerente possibile oltre ovviamente a tutte le caratterizzazioni che vi serviranno per renderlo effettivamente un png funzionante all'interno del mondo di gioco quali sono le informazioni importanti per saperlo dovete semplicemente fare il ragionamento contrario a quello che abbiamo visto prima cioè la lista del png che vanno a compondere la fazione dovete decostruire quella lista per trovare quale siano le informazioni basilari che quel png deve fornire al party abbiamo detto che il nostro ordine cavalleresco è formato da tre tipi di png in generale i cavalieri veri e i propri i fabbri e il generico personale di servizio bene probabilmente quella fazione avrà bisogno di tre png che facciano da volto un cavaliere un fabbro è uno degli operai le relazioni che questi tre png avranno tra di loro dovrebbe essere grossomodo la stessa che i tre gruppi all'interno nella fazione hanno tra loro e anche la psicologia del singolo personaggio dovrebbe grossomodo rispecchiare quella che in linea generale è la psicologia della parte di fazione che lui rappresenta se nel nostro ordine cavalleresco i cavalieri sono nobili arroganti che disprezzano tutti gli altri membri all'organizzazione i fabbri si riconoscono come una sorta di elite senza di cui nessun altro potrebbe fare il suo lavoro e gli operai sono semplicemente maltrattati hanno risentimento verso gli altri due gruppi bene i tre png dovrebbero avere questa come loro caratterizzazione psicologica il cavaliere tratterà con disdegno e arroganza gli altri due ma magari il fabbro non si farà problemi a rispondergli perché sa che il suo lavoro è indispensabile anzi magari utilizzerà molto spesso un gergo tecnico appunto per sottolineare quanto lui appartenga alla manodopera di elite e magari l'operaio sarà la pulcinella la situazione maltrattato a tutti ma è costretto a stare al gioco per non finire in mezzo una strada ovviamente questo non vuol dire che tutti i png di quella fazione rientrano in una di queste tre categorie anzi sarebbe meglio che poi ci siano delle variazioni magari in una quest i giocatori incontreranno un cavaliere che effettivamente è gentile e cortese con gli altri o magari ci sarà un intero arco di quest in cui gli operai cercheranno di ribellarsi e ammazzare i cavalieri perché non ne possono più dei soprusi ma questi non dovrebbero essere i primi personaggi con cui i giocatori hanno a che fare appunto perché non sono rappresentativi della fazione ma rappresentano dei casi particolari al suo interno molto spesso questi volti saranno i leader della fazione ma non date per scontato che questa sia sempre l'idea migliore per motivi pratici anche di verosimiglianza all'interno del mondo di gioco quando i pg interagiscono con qualche png di una fazione normalmente lo fanno con qualcuno che abbia un qualche tipo di autorità decisionale all'interno di quel gruppo potranno anche spiegare in grandi dettagli il loro complessissimo piano d'attacco al soldato generico dell'esercito ma quello lì più che digli di andare a parlare col colonnello perché non è lui che decide la strategia non potrà fare e anzi se parlando con chiunque incontrino questo vada a influenzare l'intera fazione sembrerebbe estremamente strano e quindi farebbe cadere la sospensione dell'incredulità e quindi rovinerebbe la verosimiglianza del mondo se in quell'esercito tutti potessero dare ordini a tutti gli altri quindi ha senso che i principali png con cui i giocatori interagiscono siano appunto quelli in una posizione di comando all'interno della fazione ma non date per scontato che questa sia una cosa indiscriminatamente vera i png con cui i giocatori dovranno interagire di più quindi le facce più frequenti della fazione sono quelli che devono effettivamente essere utilizzati come volti alla fazione non necessariamente perché sono in una posizione di comando ma perché sono quelli con cui i giocatori interagiscono di più e perché probabilmente sono i primi che loro incontreranno se il primo membro dell'ordine cavalleresco è il nostro esempio che i giocatori incontreranno sarà un singolo cavaliere solitario che in questo momento si trova in una zona sperduta del regno lontanissimo dal resto della sua fazione ma che viaggia nella stessa carovana in cui viaggiano i pg dei giocatori e che quindi i giocatori dovranno incontrare e interagire con lui magari per molte sessioni magari per un intero arco della campagna anche se all'interno della sua organizzazione non ha alcuna capacità di decisionale anzi probabilmente vale meno di niente proprio per questo l'hanno mandato nel luogo più sperduto del regno però sarebbe meglio che fosse lui il volto della fazione dato che sarà il primo personaggio che i giocatori incontreranno e quello con cui avranno a che fare per più tempo in questo modo quando magari molte sessioni dopo se non proprio direttamente in una quest successiva i giocatori arriveranno finalmente al castello dei cavalieri dove ci sono gli ufficiali della fazione quelli che effettivamente decidono tutta l'introduzione alla fazione sarà già stata fatta i giocatori sapranno già cosa aspettarsi da tutti gli altri png e voi come master potrete procedere molto più velocemente nella quest che effettivamente gli dovete far giocare potenzialmente c'è ancora un bel po da dire anche perché tutto quello di cui abbiamo parlato in questo video vale fin tanto che il master non decide di andare a sovvertire le aspettative dei suoi giocatori ma per quello ci sarà tempo quindi questa settimana abbiamo parlato veramente fin troppo quindi il video termina qui adesso ovviamente la parola sta a voi scrivetemi sotto nei commenti se voi utilizzate i volti della fazione come avete fatto a caratterizzarli come avete fatto a caratterizzare le vostre fazioni o come avete fallito nel farlo mandando in confusione i vostri giocatori come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo per poter crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al gruppo di discord e al gruppo i telegram su cui metto io i video manualmente trovate anche il resto alla community con cui potrete parlare e da cui nascono discussioni che fanno scaturire idee come per questo video come sempre io sono il master che ha e noi ci vediamo nel prossimo video